La missione è grado 14 persone e 3 macchine. Una volta che si esce fuori dal gate, la cosa che si fa subito è smistare su quello che si sta facendo, quindi sulle attenzioni e non trascurare il particolare. Ho capito in Afghanistan, non sembro così tranquillo come sembra perché il pericolo può essere in ogni parte. Tutti questi bambini che arrivano intorno e tu lì il pilota da combattimento. Scendere appunto quella discesa perché Mono è su una collina. That's how I'm out of, I'll try to do me one more. It's my job to take care of everybody. I momenti di noia sono rari perché comunque sia c'è sempre da fare, c'è da sistemare il campo. Il palazzo più in giro è il parlamentare siciliano. Il ricordo più bello che ho dell'Afghanistan è sicuramente di stare assieme ai compagni. Quindi sanno che magari quella è la strada che viene sempre fatta per convoio quando passa e posizionano lì. Un'altra matica è una carriola con la terra in vicino alla torta strada, adesso la stiamo facendo sforzare. Un'altra matica è una carriola con la terra in vicino alla torta strada, ma io non voglio permettare, voglio vedere se c'è qualcosa da sotto. Un'altra matica è una carriola con la terra in vicino alla torta strada, ma io non voglio vedere se c'è qualcosa di più. Un'altra matica è un'altra matica. Un'altra matica è un'altra matica.